Nei giorni scorsi è arrivata l'ordinanza rivolta ai commercianti, in cui si invitano le attività commerciali ad avere un atteggiamento di decoro nei giorni 5 e 6 aprile. Ciò non significa chiudere le attività per due giorni, nessuno pensa che siano dei lucratori, ma si offre un servizio ai cittadini che intendono partecipare alle iniziative della commemorazione del decennale del terremoto. Ciò che si chiede quindi è solamente di mantenere un decoro dignitoso. A spiegare meglio il punto e a fare più chiarezza è proprio il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Non c'è nessun obbligo per le attività commerciali di chiudere tutt'altro, anzi credo che le attività commerciali assolveranno ad una funzione utilissima in questi giorni, in cui ci sarà anche un afflusso importante di persone. L'immito che è contenuto nell'ordinanza, quindi non comporta obblighi, è quello magari di tenere la sala cinesca abbassata per un'ora e soprattutto, invece quello sia un ordine, un obbligo, a non porr in essere attività che stridano con il sentimento di raccoglimento e di lutto che ci sarà in quei due giorni. Quindi niente musica ad alto volume, niente musica all'aperto, niente cose che non siano nello stile della sobrietà che viene richiesta in questi giorni, così come è preciso che quando parliamo di attività ludico-sportive non ci riferiamo naturalmente alle gare di campionato, dei campionati già previste, insomma, assolutamente.